Mi sono riconosciuto un po' perché anche noi, anch'io che vengo dall'ultimo servizio di banca Monica, ho sperimentato l'avvicinanza alla gente, la comprensione di come quella gente è, magari ho tratti che si avvicinano nei caratteri a quelli scritti dal vostro sindaco, dunque non sono cose nuove, quelle che incontrerò preso di un evento.